Di sicuro un'efficace soluzione al caldo e all'afa, anche se la festa della Chiena fu scogitata dagli abitanti di Campania in provincia di Salerno per lavare via la peste che colpì il paese nel 600. Deviato nel suo corso il fiume Tenza, un affluente del Sele, inonde strade vicoli del piccolo borgo salernitano e come si vede nelle immagini il divertimento è assicurato. Un'inondazione pilotata ovviamente senza rischi per nessuno, una ricorrenza che si ripete ogni anno ad agosto e ora non ci si limita più solo all'inondazione delle strade cittadine. La festa della Chiena infatti viene accompagnata anche da danze, musiche, passeggiate, degustazione e animazione con turisti e cittadini che profittano per scambiarsi secchiate e gavettoni in maniera allegra e civile. Un'allegria coinvolgente che si può vivere mischiandosi agli altri o che si può godere lontano dai gavettoni, negli angoli o negli spazi protetti.